Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico di P2L200, siamo qui oggi ancora su O-Game ragazzi scusate se questo... se oggi... oggi dovevo uscire Far Cry ma purtroppo non sono riuscito a farvelo perché c'ho qua ospiti quindi vi faccio in questi pochi minuti che ho a disposizione per me prima che la gente arrivi vi faccio O-Game allora ragazzi ovviamente prima di tutto di smettere un attimo con i calcini qua di smettere un attimo la produzione voglio andare subito a sbloccarmi di caccia pesante per poi averne 10-10 poi sbloccare il crocettore e portarle tutti 3 a 100 quindi vediamo allora sti cazzi allora serve il laboratorio a livello 2 quindi strutture sviluppo un minuto poi poi ragazzi mi sono anche arrivati qualche messaggi su O-Game anche cominciavo già a spiarmi mi stavo già iniziando a preoccupare poi ho detto ho detto ma no ma come dicevo cacchio ho appena iniziato poi è cioè figa non disintegratemi subito e invece ho già cominciato a spiore a darmi qualche occhiatino speriamo solo che c'è di riconizione e ora di qualche attacco serio anche perché non c'ho pronte le difese brutto stupida cosa c'ho solo 3 lanciarazzi ma non basteranno mai difendermi quindi per questo voglio già sbloccare caccia pesante farmene già 10 per poi andare sulle difese andiamo a vedere se è completa la struttura però vi ho poi visto anche che avete cominciato anche i video vecchi soprattutto quelli di Resident Evil vi ho visto che stanno vi stanno li state guardando vi siete appassionati quale serie lì sono contento anche perché ogni volta che la vedevo non avevo cioè ogni volta che la facevo vedevo che i risultati erano un po' bassi però ho voluto portarla a termine perché era una promessa che mi sono fatto ho detto di finire il più serie possibile poi adesso visto che comunque vi state guardando state guardando c'è addirittura un video che ha più di 100 visualizzazioni ragazzi io vi voglio troppo bene vi amo tutti ragazzi per poi adesso visto che comunque anche la serie di Hunterd vi piace ogni tanto la guardate quindi ragazzi sono molto contento però la serie vostra preferita in assoluto è questa qua il suo game mi va bene mi va bene ragazzi spero che quello di consigli che do qua il suo game siano almeno per lo meno giusti o per lo meno vi diano un po' la mano delle vostre strategie così intanto che sia pronta la struttura che ci vogliono 6 minuti io metterei giù un po' di difese e chiuderei il video bene ragazzi se il video di oggi lo so che è molto corto rispetto al normale standard di quelli di Ogame ma purtroppo ho detto che c'è qua gente quindi scusatemi se il video di oggi ragazzi vi è piaciuto votate e commentateci ci vedo al prossimo video ciao a tutti ragazzi